giustamente e correttamente le assorbe direttamente perché questo dimostrando il grande amore e la grande passione per il ruolo che svolge. Come abbiamo ragionato? Questo primo step che vi presenteremo oggi è che andrà in funzione immediatamente in tempo reale oggi stesso, quindi abbiamo voluto fare la conferenza stampa andando a presentare un progetto canterabile che bisogna solo fare switch on e partire perché non ci piace presentare quello che avverrà tra qualche anno, tra qualche mese, ma come vi abbiamo abituato a vivere la nostra amministrazione in questi nove anni abbiamo sempre voluto presentare tutte le iniziative in maniera concreta, canterabile e quindi fattiva. Oggi questo primo step cosa contempla? Contempla il monitoraggio, quindi la sistemazione di tutto questo impianto di sicurezza attraverso le telecamere su tutti gli accessi della città di Greta.